Allora, facciamo nel stile televisivo, ti presenti, il tuo ruolo, di dove vieni, raccontami di te. Ruolo... Allora, nome? Giovanni Elberghini. Ruolo? Centro. Club di Pus Genova Rugby. Che aspettative hai? Di migliorarmi e di mettermi a servizio della squadra, cercare di arrivare a vincere lo scuoletto. Un giocatore nel tuo ruolo che ti piace a livello nazionale e dopo anche a livello internazionale, quale? Allora, direi Campagnaro, un buon giocatore, mi piace. Però a livello internazionale? Corran Smith. Mi sento molto bene. Come mai qui a Calvisano? Sempre per cercare di migliorarmi e arrivare il più alto possibile. A chi salutiamo, visto che bisogna sempre salutare la gente che forse è stata importante nella tua carriera? Tutti i miei allenatori che mi hanno trasmesso questa attrazione. Va bene, te ringrazio e buon lavoro. Grazie. Ok, ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.